Il 4 marzo ricorre la giornata internazionale di lotta contro il papilloma virus. Il papilloma virus può dare vita a un'infezione virale che può causare varie forme di tumore. Oltre 6.500 casi di tumori ogni anno sono attribuiti a infezioni croniche di ceppi oncogeni del virus del papilloma umano HPV. Uno dei tumori più diffusi, circa 2.400 casi in Italia, è il carcinoma del collo dell'utero, che è il primo cancro a essere riconosciuto dall'OMS come totalmente riconducibile a un'infezione e può essere prevenuto con una vaccinazione. Per la giornata internazionale di lotta contro il papilloma virus, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Aslo VCO, in collaborazione con il reparto di ginecologia e i consultori dell'azienda, promuove la campagna di vaccinazione contro l'HPV con tre giornate di offerta gratuita e senza appuntamento, durante le quali verranno anche fornite informazioni sanitarie da parte di personale sanitario ostetrico specializzato. Le suddette giornate sono rivolte a tutte le ragazze tra gli 11 e i 26 anni e a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni che non sono stati precedentemente vaccinati. Avranno luogo lunedì 4 marzo, dalle 11 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30 presso l'ambulatorio vaccinale del Dipartimento di Prevenzione di Crusinallo di Omenia, via 4 novembre 294. Venerdì 8 marzo, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30 presso l'ambulatorio vaccinale del Distretto Sanitario di Domodossola, in via Scappaccino 47. Sabato 9 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30 presso l'ambulatorio vaccinale del Distretto Sanitario di Verbania, via Sant'Anna 83. Per quanto riguarda le donne nate prima del 1992 e gli uomini nate prima del 2006, vi è la possibilità di ricevere la vaccinazione anti-HPV su appuntamento e previo pagamento, info al numero 0324 49 16 83. Ne parliamo nella nuova puntata di Vivere in Salute, che vi aspetta come sempre il giovedì alle 18.45 e il venerdì alle ore 12.